L'avevo detto in conferenza pre-partita, quando avevo preparato la partita nella conferenza avevo detto che bisognava adattarsi e adattarsi voleva venire qui a cercare di portare via anche questo tipo di partite sporche con le unghie e con i denti perché sapevo che cosa ci aspettava qua, conosco troppo bene questo campionato per far sì che non si poteva arrivare qui pronti invece noi siamo arrivati pronti a fare questo tipo di gara perché sapevo che la loro fisicità, il loro modo verticale di giocare il loro stato di salute anche sia mentale che fisico perché comunque non perdono dall'inizio del campionato c'è la grande fiducia, una squadra che ci avrebbe aggredito come hanno fatto nella prima mezz'ora e di conseguenza dovevamo fare anche questo tipo di partita e secondo me i ragazzi l'hanno fatto bene perché hanno lottato hanno combattuto soffrendo perché ci mancherebbe altro che non abbiamo sofferto però se fossimo venuti qui al contrario non pronti a questo tipo di gare secondo me oggi il punto non l'avremmo portato a casa quindi bravi ragazzi a interpretarla in questo modo oggi la partita sarà diversa per scelta, abbiamo scelto di non andare in parità numerica perché sapevamo che andare in parità numerica con queste verticalizzazioni continue ma soprattutto per la loro fisicità perché non hanno solo centimetri hanno passo e forza, poteva metterci in difficoltà quindi abbiamo cercato di tenere un uomo in più dietro sempre naturalmente se hai un uomo in più dietro vuol dire che ne hai uno in meno in zona di pressione e vuol dire che ti devi abbassare come abbiamo fatto oggi però l'abbiamo fatto per scelta, per una strategia sono d'accordo che l'occasione più grande l'abbiamo avuta noi perché Novakovic era completamente solo davanti al portiere poi è normale che lo Spezia ha avuto le sue occasioni ai punti avrebbe anche magari meritato di vincere però le partite sono queste noi sappiamo cosa vuol dire non vincere le partite ai punti perché ne abbiamo fatte veramente tante e quindi ribadisco poi i cambi dopo nel secondo tempo glielo ho detto anche ai ragazzi in settimana non sono stati cambi di gestione ho detto ai ragazzi che non avrei dato contentini per cercare di mettere dentro dei ragazzi ma li ho messi dentro anche perché li ho messi dentro sullo 0-0 con grande fiducia perché vedevo quello che comunque potevano darmi in allenamento quindi sono contento di averli coinvolti perché durante l'anno avremo bisogno di tutti e loro come ho già detto più di una volta anche giocando poco mi stanno dando tanto fuori dal campo e io ho bisogno di questo il Bari ha bisogno di questo e quindi quando li chiami in causa e si fanno trovare pronti sono molto contento questa è una squadra che aveva fatto 13 gol su 15 su palla inattiva anche oggi ha battuto tante palle inattive io credo che la scelta Favilli la scelta Obaretin la scelta Lella nei confronti di magari Puccino, Sibilli, Falletti oggi abbia pagato in quelle situazioni perché aver messo anche noi dei ragazzi strutturati di forza, di centimetri ci ha permesso di non prendere gol io credo che noi oltre a quei tre che ho citato abbiamo anche dentro il campo Benali Dorval, Favasuli non superiamo il metro e settanta e secondo me avremmo concesso molto di più ve l'avevo detto in conferenza, prepartita ci sono delle partite che in questo campionato devi anche saper interpretare noi non siamo una squadra e non voglio mai essere presuntuosa da poter venire qui in casa di una squadra in piena salute a voler fare un altro tipo di partita abbiamo fatto questa scelta e la squadra mi ha dimostrato che è pronta anche a saper soffrire a saper combattere come ha combattuto oggi di conseguenza è vero che abbiamo creato meno delle altre partite però l'abbiamo fatto contro la miglior difesa del campionato non dimenticatevelo che questa è la miglior difesa del campionato con meno gol subiti da parte di tutti e sapevamo che oggi le occasioni glielo avevo detto prima della partita sarebbero state meno e avremmo dovuto sfruttare quelli due o tre che ci sono state non l'abbiamo fatto però ripeto portiamo a casa un punto importante Nicola avevo bisogno di un giocatore con con grande fame in quei dieci minuti e con grande capacità di poter fare quel tipo di situazione Falletti e Sibili l'avrebbero fatto anche loro ma in quel momento lì avevo bisogno di un giocatore come Nicola ripetisco ve lo ridico ancora una volta è un ragazzo che si sta mettendo a disposizione sempre positivo si allena forte e stasera ha fatto quello che doveva fare ha servito alla squadra sullo 0-0 ci ha dato una mano grande Favigli ha sentito indurire l'aduttore dobbiamo aspettare naturalmente che passino 48 ore capire meglio cosa gli è successo e valutarlo nella giornata di domani dopo domani in questo momento la cosa importante è la continuità poi sono io il primo a voler vincere le partite e a voler centrare la vittoria il prima possibile e in maniera più costante possibile però la squadra non devo spendere troppe parole per tenerla su perché la squadra è convinta di quello che sta facendo è sulla strada giusta ripeto questi sono percorsi che stiamo che stiamo facendo le partite sono differenti e saranno differenti come vi ho sempre detto vi ho sempre detto la verità anche di quello che pensavo i giocatori li utilizzeremo anche in base alle caratteristiche e le partite questa è una dimostrazione di oggi di conseguenza ripeto avere fatto un altro punto su un campo così ostico e difficile lo vedo come un aspetto positivo con i sé e con i ma si va poco lontano quindi adesso dobbiamo pensare alla Carrarese un'altra partita importante dobbiamo cercare e cercheremo la vittoria a tutti i costi in tutti i modi e poi penseremo poi alla Reggiana ma dobbiamo naturalmente adesso concentrarsi sulla prossima partita lavorare sodo perché abbiamo l'opportunità di vincerla ma come sempre poi parla al campo e le chiacchiere stanno a zero il bilancio naturalmente dopo una decina di partite si potrà sicuramente iniziare a fare a capire che cosa possiamo essere che cosa possiamo diventare però ripeto dopo tre mesi di lavoro in questo momento vedo una squadra che inizia a essere sempre più squadra perché anche oggi nelle difficoltà ha dimostrato carattere ha dimostrato cuore ha voluto in tutti i modi portare a casa un risultato positivo e questo ripeto lo ribadisco è un aspetto non scontato e positivo è un aspetto che inizia a essere che inizia a essere l'acpetto di un aspetto di un aspetto che inizia a essere Grazie.